Il capo della protezione civile mente alla stampa e il Kodakons, prove alla mano, lo smentisce, rendendo oggi pubblica la bugia raccontata da Angelo Borrelli nel corso della conferenza stampa di sabato scorso. È quanto denuncia il Kodakons in una nota. Alla domanda di una giornalista circa una nota secretata dei primi di marzo del Comitato Tecnico Scientifico che, per evitare la diffusione del contagio, suggeriva alla protezione civile la chiusura dei comuni di Alzano e Nembro prima che la Lombardia venisse definita zona rossa, Borrelli ha risposto che le misure sono state adottate in assoluta trasparenza. Nulla di secretato. Sono gli atti normali del Comitato Tecnico Scientifico. Una risposta che contrasta con alcuni documenti in possesso del Kodakons e che dimostrano una totale mancanza di trasparenza in fatto di attività della Commissione, spiega il Kodakons. Lo scorso marzo, quando gli ospedali del Nord Italia si trovavano allo stremo, l'associazione, dopo alcuni contatti con un'azienda cinese, aveva segnalato alla protezione civile 350 ventilatori disponibili ad arrivare in pochi giorni in Italia. La PEC, inviata dal Kodakons, rimase tuttavia senza alcuna risposta, se non per un messaggio del dottor Giusto Tagarro che informava come i ventilatori in questione fossero stati ritenuti non idonei dalla Commissione Tecnico Scientifica. Si legge nella nota.